Questa è la copertina delle enciclopedie di Diderot e d'Alembert. Vedete, pubblicata da Diderot dell'Accademia Reale delle Scienze e delle Belle Lettere e per la parte matematica pubblicata da Monsieur D'Alembert dell'Accademia Reale delle Scienze di Parigi e della Società Reale di Londra. D'Alembert è il filosofo più giovane con i capelli bianchi, invece il filosofo più anziano vestito di rosso è Diderot. Naturalmente il progetto delle enciclopedie è un progetto che poi non è mai più stato portato a termine. Perché? Che cosa volevano fare questi due filosofi? Volevano pubblicare un'enciclopedia che contenesse tutto quanto il sapere, medicina, matematica, geometria, scienze, letteratura. Era un'opera assolutamente impossibile, però ci fa capire questo è l'ultimo tentativo di dare una visione del sapere come una mathesis universalis, cioè come un unico organico, come un conglomerato di dottrine che possono essere ricondotte ad unità. Oggigiorno non verrebbe in mente a nessuno di scrivere una enciclopedia o dizionario ragionato delle scienze, delle arti e dei mestieri. Perché? Gli mestieri si avvalgono della tecnica e le scienze invece si avvalgono delle teorie. L'applicazione tecnica delle scienze nelle arti e dei mestieri non ha nulla a che vedere con la ricerca scientifica di laboratorio al giorno d'oggi, ma questo ancora non era visto così nel settecento. C'era ancora l'idea che appunto il sapere fosse unico e organico. Per quanto riguarda la religione il parere degli illuministi è duplice. Da una parte noi abbiamo degli illuministi come Lessing che scrivono quel bellissimo racconto che è detto Nathan il saggio. In questo racconto viene ripresa una leggenda di origine medievale della quale ci parla anche lo stesso Boccaccio nel Decamerone, è la famosa parabola dei tre anelli. Ci sono Nathan il saggio, il feroce Saladino e un anonimo cavaliere templare e discutono su quale sia la religione migliore, se quella ebraica, quella cristiana o quella musulmana. E allora nella discussione prende la parola Nathan, questo mercante ebreo, che racconta la famosa parabola dei tre anelli, la parabola in cui il padre che aveva tre figli e aveva promesso di lasciare il proprio anello al figlio più virtuoso, alla fine in grande segreto fa forgiare altri due anelli esattamente uguali al primo e separatamente dona un anello a ciascuno dei tre figli. In questo modo ognuno pensa di essere il figlio prediletto, il figlio più amato dal padre e i ragazzi evitano quindi di odiarsi, di entrare in conflitto fra di loro dopo la morte del padre. Perciò questo anello è il simbolo della tolleranza religiosa, è il simbolo del dialogo fra le fedi è il simbolo della uguaglianza dei culti perché tutti sono stati voluti dai loro fondatori per il bene. Ma qui in quest'altra stampa voi vedete la dea greca Minerva che era la dea appunto della razionalità, la dea delle scienze e sotto alla dea Minerva vedete ci sono delle persone, possiamo riconoscere da sinistra a destra un musulmano, un ebreo con la barba e un cattolico, un frate minore con un crocefisso e con la tonsura cioè con i capelli rasati. La sapienza, la ragione simboleggiata da Minerva che è in grado di dare unità e di far dialogare fra loro le varie fedi. Ma appunto non avviene sempre così, non c'è sempre una tolleranza religiosa, altri pensatori dell'illuminismo sono decisamente atei, si dichiarano atei e si dichiarano anche in modo manifesto anticlericali e per esempio la pubblicazione di questo libro, i tre impostori, davvero emblematica. La leggenda dei tre impostori in un certo senso è specularmente opposta alla parabola dei tre anelli. Se la parabola dei tre anelli dice che le tre religioni monoteiste del Mediterraneo stanno sullo stesso piano, la leggenda dei tre impostori dice che tanto Mosè quanto Gesù quanto Maometto sono degli impostori rispettivamente Maometto è un pastore di cammelli, Gesù era un medico che sotto le mentite sfoglie del Messia guariva gli ammalati e un pastore era anche Mosè, non pastore di cammelli ma di greggi. Questi tre uomini secondo questa leggenda che si diffonde fino dal Medioevo avevano ingannato il genere umano. Capite che ora nel 1700 questa leggenda torna ad avere una certa attualità, viene pubblicata perciò sia ad Amsterdam che a Vienna ed è una storia che ci fa capire quanto forte sia anche l'aspetto anticlericale dell'illuminismo. Per certi pensatori la fede è da considerare alla stessa stregua della superstizione.